Itinerari di arte e fede. Monsignor Giuseppe Stanzani propone un ciclo di visite guidate alle chiese bolognesi che comprenderà tutte le domeniche pomeriggio di luglio e agosto a partire dalle ore 16. L'idea è quella di sviluppare le grandi potenzialità dell'arte sacra come strumento di evangelizzazione e di catechesi. L'opera d'arte è un cammino di evangelizzazione che eleva fino all'artefice di ogni bellezza perché la vita dell'uomo è la visione di Dio. Si parte da San Petronio, la Bibbia scolpita sulla facciata, a San Francesco, la bellezza fatta a Santità, poi la Basilica dei Servi, la bellezza al femminile, la bellezza della devozione nei 35 altari della Basilica di San Giacomo, poi ancora la bellezza delle 24 cappelle di San Petronio, la bellezza fatta a Teologia in San Domenico, la bellezza della nostra storia ecclesiale in Santo Stefano, per concludere in Cattedrale con la bellezza della nostra professione di fede. L'appuntamento è alle 16, la visita inizia con una proiezione e con visite guidate a gruppi di venti con tutte le cautele necessarie per il distanziamento. I dettagli nel sito della Diocesi.